Abbiamo pensato di dare in affitto noi la scuola alla Polizia di Stato per ospitare questo ufficio, dall'altro a Picanello, in un quartiere dove ci saranno decine di poliziotti che andranno in giro e quindi immaginate cosa vuol dire in termini di sicurezza. L'affitto, grazie a una società finanziaria, viene anticipato in qualche misura e si fanno i lavori di ristrutturazione, il Comune recupera un immobile e lo valorizza, la Polizia risparmia e diamo un segnale di questo tipo. Quindi è una cosa di grandissimo livello che esporteremo in giro per l'Italia. Quando il modello sarà diventato operativo e la scuola sarà stata consegnata, faremo un'iniziativa a Roma e racconteremo a tutti gli altri sindaci d'Italia come abbiamo fatto ad affrontare un tema di questo tipo, trovando una soluzione con reciproci vantaggi. Sono felice che Catania garantisca maggiore sicurezza con questa operazione a Picanello e quell'altra a Librino altrettanto importante, Villanitta, per Pasqua sarà consegnata al Capo della Polizia per ospitare un commissariato in una delle zone più importanti della Catania del Futuro che io immagino.